Ultima puntata di questa stagione, il temutissimo pagellone della Juve bianconera di quest'anno. Io invece di dare voti singoli li dividerei per categorie. La prima categoria che prenderei in esame è la categoria Ma vai a cagare te, chi ti fa giocare e chi ti paga. In questa categoria come non metterci Arthur, come non metterci Alexandro, ormai un ex giocatore purtroppo ancora con un anno di contratto, Moise Ken indubbiamente, una delusione clamorosa, anzi non una delusione perché non è che ci avesse grandi aspettative su di lui, ma purtroppo solo una conferma che è assolutamente un giocatore inadeguato a questi livelli, e anche Luca Pellegrini, se penso che in questo ruolo abbiamo sacrificato Spinazzola per arrivare a Luca Pellegrini, c'è da buttarsi dalla finestra. Seconda categoria, gambe rubate alla Lega Pro. In questa categoria indubbiamente Bernard Veschi, finalmente a fine contratto se lo raccolga pure chi vuole, 40 milioni ammortizzati secondo i bilanci, secondo invece una pancia del tifoso buttati via, De Sciglio e Rugani. Purtroppo sono tre italiani, se si doveva ricostruire un nucleo forte di italiani investendo su questi giocatori, no, gambe rubate alla Lega Pro. Terza categoria, categoria speravamo meglio. Categoria speravamo meglio, io ci metterei quattro giocatori. Locatelli, Rabiot, Chiesa e Dybala. Sono discorsi diversi, Locatelli per un lungo momento è stato l'unico giocatore a centrocampo in cui la Juve si è aggrappata, poi chiaramente ne ha pagato un po' lo scotto, e un po' lo scotto di giocare spesso in un ruolo che non è il suo, quello del regista, per una palese mancanza di un regista. Mi aspetto un'annata decisamente migliore da lui l'anno prossimo, perché è un giocatore sul quale si è fatto un investimento forte, ci sono tante attese. Chiesa speravamo meglio perché comunque l'inizio di campionato, l'inverno, anzi l'autunno, è stato negativo. Nel momento che stava entrando in forma dopo le vacanze, purtroppo si è fatto male e si può fare poco. Anche lui lo aspettiamo a braccia aperte. Dybala era la stagione della sua consacrazione, senza l'ombra di Ronaldo, arrivato con una preparazione puntigliosa per poter fare una stagione importante, dimostrare che l'investimento su di lui della Juve era quello giusto, alla fine dei fatti ha fallito. Nelle partite importanti è stato il risultato sempre infortunato e mai decisivo. Rabiot è entrato in questa categoria con le prestazioni degli ultimi due mesi, dalla partita di ritorno dell'Inter in poi, perché prima stava nella categoria ma vai a cagare te, chi ti fa giocare. Poi invece ha dimostrato che impiegato in un certo modo, con un certo tipo di fiducia, è un giocatore che ha delle caratteristiche sulle quali si può pensare di ancora rivederlo. Fisico importante, grande corsa, piedi così così, tante amnesie, però gli ultimi due mesi sono stati ben diversi dagli ultimi due anni. Può essere una vetrina per chi se lo vuole raccogliere. Non sarà sicuramente un giocatore rimpianto. Categoria bene ma non benissimo, Morata, McKennie, Bonucci, Delitte, Zaccaria, con ragioni diverse. Morata da prima punta ha fatto quello che ha potuto finché ha dovuto giocare in quel ruolo ed è stato molto peggio che bene ma non benissimo. Poi con l'arrivo di Vlauwe c'è liberato da questa incombenza che non è nelle sue caratteristiche c'è dimostrato un giocatore invece importante, molto importante. McKennie, inizio difficile, poi anche lui ha avuto un bel periodo, ha segnato spesso in un certo periodo anche gol importanti, poi l'infortunio lo ha fermato. Non è un campione, non lo sarà mai, è un giocatore che ci può stare nelle rotazioni di un centrocampo o di una squadra forte. Anche lui penso che davanti, se la Juve gli arrivasse un'offerta importante, non ci penserebbero due volte a venderlo. Bonucci, l'anno in cui ha segnato più gol, ma non è il suo mestiere, però in difesa qualcosa ha pagato anche lui. De Litt, una stagione per certi versi eccellente, suntuosa, perché ha fatto periodi e partite in cui veramente la prepotenza fisica sua si è esaltata. Purtroppo rimane quella macchia di un'amnesia clamorosa sul gol di Pareko all'andata col Villareal, che ha pesato come un macigno. Mi piacerebbe vederlo in una difesa che stesse 20 metri più avanti di non aver paura, perché un giocatore così, che tiene l'uno contro uno, sei abbastanza garantito. In area difesa bassa sei molto meno garantito. Zaccaria aveva iniziato molto bene, poi anche lui infortuni, si è un po' perso. Lo aspettiamo l'anno prossimo a prestazioni più continue e importanti. Per ultima la categoria grazie di esistere, i due portieri, Cesny e Perin. dopo un inizio stranamente da treggenda, poi si è dimostrato il solito portiere super affidabile, vuoi affidargli anche il nipote da accompagnare a scuola e con lui sei tranquillo, ha parato rigori decisivi, ha portato punti decisivi. Ho detto i portieri Perin, perché Perin è un portiere di riserva e in quel ruolo lì probabilmente uno dei migliori al mondo come portiere di riserva. La tragedia Radu insegna che avere un portiere di riserva affidabile a questi livelli è importante. Chiellini, grazie di esistere per tutti gli anni che ha passato la Juve, è un giocatore che è clamorosamente migliorato con gli anni che passavano e che mancherà terribilmente l'anno prossimo come caratteristiche di difensore e come carisma e saggezza nello spogliatoio. Danilo, un pupillo di Allegri, effettivamente giocatore di rendimento sempre alto e tranquillo. Blaovic, nonostante il gioco non gioco della Juve non lo abbia sicuramente aiutato i suoi gol li ha fatti e ha dimostrato che se ce ne fosse bisogno che è il giocatore su cui l'investimento dei prossimi anni probabilmente è corretto e per ultimo ci lascio Quadrado. Secondo me Quadrado è ancora stato quest'anno il migliore della stagione come forse l'anno scorso. Un giocatore assolutamente affidabile uno dei pochi che salta l'uomo crea una superiorità dal quale spesso sono venute le uniche idee di un attacco che poi ci si debba ancora affidare a un giocatore di 34 anni per risolvere delle trame di attacco questo è un problemino da affrontare molto velocemente quest'estate. Per ultimo al mister Allegri voto negativo lo abbiamo già detto credo che la partita di ieri della Champions League vinta con difesa contropiede una scarpata che è finita in gol grazie al topo di Vinicius che è intervenuto non lo aiuterà a cambiare le sue convenzioni che non si può giocare solo difesa e contropiede soprattutto difesa così bassa nell'epoca del VAR e degli svenimenti chiudiamo qui confidiamo che la prossima stagione sia diversa e questa volta veramente buona estate a tutti anche se oggi è una giornata tutt'altro che estiva